E' alta la probabilità che facesse parte del commando di Nanto. I carabinieri di Vicenza hanno arrestato a Dolo nel Veneziano, un uomo sulla sua identità e massimo riservo, che ritengono elemento del gruppo d'assalto che lo scorso 3 febbraio cercò armato di fucili di assaltare la Gelleria Luxo di Nanto nel Vicentino. Una rapina fallita grazie all'intervento di un benzinaio della zona, quel graziano stacchio che per difendere la commessa dell'atelier presa in ostaggio e minacciato dai banditi sparò su di loro in fuga, colpendo e uccidendo Albano Cassol, giustaio trevigiano di 41 anni. Il bandito è morto dissanguato, abbandonato dai complici. Il benzinaio indagato per eccesso di legittima difesa divenne il simbolo dell'esasperazione della volontà di reazione alla violenza dei criminali. La reazione di un uomo mite che mai avrebbe voluto fare del male e che ha cercato solo di difendere una ragazza in balia dei delinquenti. Il suo sostegno furono realizzate delle magliette con la scritta Io sto con stacchio, una t-shirt indossata anche da Matteo Salvini.